Da gennaio ad agosto di quest'anno la Liguria ha visto l'aumento percentuale di infortuni sul lavoro più alto della media nazionale. Le denunce tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2022 sono state 20.102, più 67,2% rispetto al corrispondente periodo del 2021. In Liguria il primo tra i settori interessati è quello dell'industria e servizi, più 69,2% sull'anno precedente. In forte aumento i settori in espansione come il commercio, più 148%, alloggio e ristorazione, più 60%, trasporto e logistica, più 43%. In provincia di Genova gli infortuni sono passati da oltre 6.300 a più di 11.400, pari un più 79%, seguiti dalla Spezia, Savona e Imperia. Gli infortuni aumentano nei settori dove maggiori sono le concentrazioni di contratti stagionali, precari e quelli dove purtroppo permangono forti fasce di irregolarità. A breve chiederemo alla Regione incontri sulla sicurezza e tavoli specifici, ha detto Maurizio Calà, segretario generale CGL Liguria, commentando i dati resi noti dall'Inel in occasione della 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti professionali. I numeri diffusi sono allarmanti, ha commentato Luca Mestre Pieri, segretario CISL Liguria. 8.000 denunce in più nei primi 8 mesi dell'anno sono una cifra che non ammette alibi né giustificazioni. Ci auguriamo che questo sia un tema prioritario nell'agenda del nuovo governo. Unico dato in calo, quello sulle infortuni mortali. 8 in Liguria dal gennaio ed agosto 2022 rispetto ai 16 del periodo precedente.